Siamo editori di media con un pubblico da 19 milioni di donne ogni mese, quindi dobbiamo essere attenti ai temi di parità e inclusione quasi per necessità. I nostri brand, tra gli altri Elma, Riclair, Cosmopolitan, sono stati fondati da donne per le donne. Come media il nostro è prima di tutto un compito sociale e culturale. Abbiamo scritto e diffuso nelle redazioni un manuale per il giornalismo inclusivo che si basa sul nostro Reinforce and Inclusion Support in Equity, una dichiarazione di impegno per chi lavora o collabora con ERST nel creare e promuovere una cultura inclusiva. Abbiamo la responsabilità di creare una comunità dove le donne possono trovarsi, esprimersi, confrontarsi anche su temi come lavoro, empowerment, inclusione e sostenibilità. In un contesto come questo è naturale che la maggioranza dei nostri colleghi siano donne e che siano distribuite su tutti i livelli. Infatti la squadra di management che guida l'azienda è composta al 50% da donne. Per favorire il bilanciamento fra lavoro e vita privata abbiamo sviluppato un sistema di smart working di tre giorni lavorativi alla settimana. Ovviamente lavoriamo ormai da anni con orario flessibile senza tivrature. Il lavoro è misurato e premiato in base a qualità e performance, non in termini di tempo. E stiamo progressivamente mettendo a fuoco degli strumenti di misurazione della gender equality che ci consentono di identificare aree o che possano esserci ancora miglioramenti.